Non fermarti al primo giudizio degli altri. Ricordati, lavora in silenzio e lascia che sia il tuo successo a far rumore. Più pensi, meno agisci. O pensi ai limiti, o pensi alle possibilità. Sei tu che devi credere in te stesso. Non pensare che lo facciano gli altri per te. Inizia oggi. Non rimandare all'indomani. Molte persone lo usano come scusa. Ma tu, tu non sei le altre persone. Tu sei quello che vuoi essere. Sei un sogno, proteggilo. E non aver paura del fallimento. Costanza Dedizione Determinazione Sono le tue armi. Usale e ne capirai l'importanza.